L'ultimo consiglio direttivo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diani e Alburni, ha segnato un cambio di passo importante per la concessione di finanziamenti e di patrocini da parte dell'ente. Con una modifica al regolamento, infatti, il Parco finanzierà e concederà il proprio patrocinio e i contributi soltanto per le iniziative che si dichiareranno plastic free. L'ente dunque chiederà una sottoscrizione autocertificata in cui si dichiara che l'evento in questione è plastic free, con controlli a campione per verificare la veridicità di quanto dichiarato. Per i trasgressori ci sarà il decadimento del finanziamento o del patrocinio concesso. Il provvedimento va nella direzione di contribuire a tutelare lo straordinario patrimonio ambientale di cui è ricco il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diani e Alburni.